Onorevole Germini, una tre giorni per discutere su tanti temi a 360 gradi. De Italia, soprattutto ascoltando voci di diverse categorie, come mai avete fatto questa scelta? Abbiamo fatto la scelta di rendere protagonista di questa manifestazione il paese reale, non le sovrastrutture della politica ma il paese reale. Quindi ci è sembrato giusto dare spazio agli artigiani, ai commercianti, agli imprenditori che faticano ad accedere al credito, piuttosto che ai giovani laureati costretti a lavorare in un call center o alle donne che si devono barcamenare e trovare lo spazio per la famiglia, per la cura dei figli ma anche per lavorare, per potersi mantenere. Quindi insomma non una visione impulturata del paese ma la realtà. Da lì vogliamo partire per costruire un programma elettorale che serva davvero al paese, che affronti i nodi irrisolti anche dall'ultima finanziaria del governo Gentiloni per cominciare a ragionare di taglio del costo del lavoro e non più di bonus a pioggia, per ragionare di flat tax nel ginepraio delle mille norme che regolano un fisco incomprensibile e sempre contro il cittadino, per ragionare anche di ricerca, di innovazione, di come sta cambiando il fare impresa, di come sia difficile difendere il made in Italy, di come si debba avere il coraggio di rifondare un welfare per la terza età ma anche per l'infanzia. Su questi temi ci confronteremo anche con chi la pensa diversamente da noi e daremo la sintesi di questa tre giorni al Presidente Berlusconi, e quindi la consegneremo per dare nuovi punti, nuovi punti programmatici per l'albero delle libertà e quindi per il programma del centro-destra delle prossime elezioni. Il Presidente Berlusconi ha detto che lui sarà comunque in campo e diciamo che ha già anche in passato elencato i punti programmatici di quelli che saranno i principali punti di Forza Italia per la prossima campagna elettorale, sono un po' quelli che ha elencato l'edice. Sì, certamente partiremo dal tema della sicurezza, che è molto sentito dai cittadini, dal tema del lavoro, perché non si può ragionare solo di pensioni, prima la ricchezza va creata per essere distribuita e con il 35% di giovani disoccupati, c'è poco da stare allegri, si deve cambiare quel dato, come si deve cambiare un dato che è un indicativo della sfiducia degli italiani nel futuro, che è quello della denatalità. Ma questo è un paese dove non si fanno figli perché si ha paura del futuro, perché si è precari per tante ragioni e allora dobbiamo ripensare appunto un welfare a misure di famiglia e da questi tre giorni sicuramente stanno già uscendo delle proposte molto interessanti che condenseremo nel programma di centro-destra. Ecco, per finire un programma del centro-destra conferma con gli alleati tradizionali, insomma, quindi non ci sarà nessun... No, no, ci sentiamo di tranquillizzare il centro-destra è unito, ha vinto anche le scorse elezioni in Sicilia, sta governando bene territori come la Lombardia, la Liguria e il Veneto, quindi tocca a noi costruire delle basi solide da consegnare al paese e da consentire quindi agli italiani di poter guardare con un po' di fiducia al futuro. Grazie.